Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Avanti Livorno. Continua il momento negativo degli Amaranto che anche contro il Montevarchi non sono andati oltre il pareggio. Un risultato che fa di fatto sfumare quasi ogni speranza di primo posto. Il risultato che ha costato il posto a Fabio Fossati, esonerato in settimana dalla società, al suo posto promosso in prima squadra dalla formazione Juniors Niccolò Pascali. Tantissimi quindi gli argomenti che andremo ad affrontare questa sera. Io vado subito a presentare gli ospiti che ci faranno compagnia. Parto come sempre dalla mia destra dove c'è un ospite quasi fisso davanti a Livorno, Jacopo Morelli di Livorno 24. Ciao a tutti, buonasera. Ringrazio poi per aver accettato il nostro invito, il vice allenatore del Livorno Calcio, Roberto Correali. Ciao Roberto. Buonasera a tutti, buonasera. Ritroviamo che in studio Paolo Maiuri, nostro opinionista, nonché seconda voce anche su Radio Bruno con Massimo Brachini che salutiamo. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Poi vabbè, Riccardo Berni non ha anche bisogno di presentazioni, il nostro opinionista ormai di punta. Parto da lei, o posso darti del tutto? Ci manca del tutto. Ti do del tutto. Partirei dalla notizia più fresca in settimana, appunto, l'esonero di Fossati. Era nell'aria questo ribaltone a di là degli ultimi risultati, oppure si pensava che a questo punto si potesse andare avanti fino alla fine, dato che mancano poche giornate ormai a termine? No, diciamo che non era nell'aria. Purtroppo il secondo tempo di Cenaia e il primo tempo di Montevarchi non sono stati proprio all'altezza e penso che la società abbia voluto provare con le ultime quattro partite a dare un po' di imprevedibilità e un po' di freschezza con il mister della Juniors. Questo è quello che penso. Termine della partita con i Montevarchi, tra l'altro la squadra si è intrattenuta a lungo negli spogliatoi, è rimasta a lungo dentro lo stadio. Il presidente Escio ha detto che è stata una scelta dei ragazzi, innanzitutto, quindi ti chiedo se mi confermi questo. Assolutamente sì, sono state scritte anche cose non vere, che si hanno levati i cellulari. Non è vero, tutto falso e i ragazzi erano molto dispiaciuti. Noi dello staff, sia tecnico che sanitario, eravamo molto dispiaciuti. Abbiamo cercato di fare quadrato, di capire il motivo di questo primo tempo non giocato all'altezza e quindi è stata una cosa fatta da tutti noi. Un conflitto schietto. Assolutamente e ripeto, il sentimento più grosso che c'era era la delusione da parte di tutti per questo primo tempo sprecato. Primo tempo sprecato che ha conseguenze pesanti anche sulla classifica, se riusciamo a metterlo a video così facciamo subito un punto della situazione. Con pareggio abbiamo detto un'apertura che fa quasi sfumare ogni speranza del primato, perché vediamo la Pianese, nonostante il K.O. Contro il Grosseto rimane a comando a quota 58, dato che anche Follonica, Gavorano, a sorpresa è caduto a Poggi Bonzi. Grosseto che si avvicina a 54, Livorno a 53, Tau a 52, Serravezza a 51, seguono poi tutte le altre, vanno a chiudere Ponsacca a 19 e Cenaia a 15. Jacopo vengo da te per analizzare un po' questa classifica, 5 punti di distanza da primo posto, quarta posizione, obiettivo promozione a questo punto sfumato? Direi ormai di sì, anche se questo campionato ormai ci è abituato a colpi di scena improvvisi, quindi da una parte posso comprendere chi è ancora un po' ottimista, anche se davvero dura, però penso che a questo punto se la giochi, secondo me il Grosseto, devo dare ragione anche a Riccardo all'inizio stagione che l'aveva sempre sostenuto. Sì, però secondo me il Grosseto poi sulla lunga in queste ultime partite avrà la meglio, anche perché non mi aspettavo questo crollo del Fronica-Vorrano. Pesante, anche nelle dimensioni proprie del risultato. Soprattutto anche perché come aveva giocato poi contro il Livorno, un ritmo davvero intenso fino all'inizio, per il Livorno sarà dura, soprattutto anche per il modo con cui affronta le partite sembra un po' senza entusiasmo, è quello che mi preoccupa di più. Riccardo e poi Paolo sulla classifica, la stessa domanda che ho fatto a Jacopo, lo faccio anche a voi. Chiuse ogni speranza per il mio posto e poi in ottica promozione chi vedete meglio in questo momento? Allora, lui mi ha stuzzicato, ma è lì mi spondo. Cioè, lui ha ragione che io all'inizio ero ottimista, come sono sempre stato ottimista su Livorno, e ritorno a dire che secondo me la mancanza di Cesarini e Bartolini hanno influito all'80%, e poi anche perché non sei riuscito a sostituirli nel mercato di gennaio. E ce n'aveva avuto di tempo perché alla quarta giornata si è fatto con le Bartolini, però indipendentemente da questo, io e Jacopo ci siamo sentiti però, se non è bugiato lo dice, e anche con Agnese, io potevo giocare la schedina perché a Jacopo gli avevo detto che l'Osseto vinceva a Castelli del Piano, come che il Follonica perdeva. E' che Livorno, secondo me, la squadra ha giocato un po' a vinci-perdi, perché... Un po' tutto il campionato, eh. Sì, ma in particolar modo nelle ultime giornate non è mai riuscita a prendere l'occasione giusta per spiccare il salto anche grazie a questi risultati negativi. In fondo te hai pareggiato a Cenaia che loro avevano subito 50 gol, se non sbaglio non avevano fatti 20, con Montevarchi veramente inesistenti anche perché secondo me è stata messa... No, poi Roberto dirà la sua... Sì, poi c'entriamo a finire del taglio. Mi ricorderà la lingua, forse, però su me è stata messa a campo una formazione un po' scellerata da parte dell'allenatore, senza una punta centrale, con te ancora anche che sinceramente non l'ho mai visto in palla, un giocatore impostato un po' abulico. E quindi, cioè, io vi voglio fare una domanda, ma secondo voi, e lo domanda a Roberto che è l'allenatore in seconda, ci spera a Grossieto che ha un punto più di noi? Secondo me sì. Io vedo perché. Tu un prova e vinci le quattro partite, secondo me è impossibile perché la squadra ora, a livello non morale, proprio di forza, non ha forza questa squadra, entra in campo è vuota, cioè ti puoi dare tutte, può fare tutte le rivoluzioni che vuoi, può cambiare anche, la prossima domenica può mandare via Roberto e il suo allenatore, ma questa squadra è vuota e se gli allenatori che sono subentrati non gli hanno dato una scossa, ma una scossa bestiale vi ci vuole, qui ti devi rinchiudere e non parlare con questi, qui c'è da farsi si prende veramente cinque minuti, perché il primo tempo che si è visto, e ritorno sempre alla colonna della squadra, la colonna centrale, Tanasa, Luci e la punta centrale che c'era, e a Cenaya, chi era? C'era Tencona e Cori. Inguardabili, inguardabili, quell'asse centrale è inguardabile, rallenta il gioco, io dall'inizio del campionato ti lo dico, rallenta il gioco in una maniera incredibile, ti hai provato, Tanasa e Luci e Rallentavano il gioco in mezzo al campo, ti sono andate bene, le prime quattro, cinque, sei partite con Tanasa centrale, quando hai visto che lo prendevano sempre in contropiede sull'1-2, secondo me devi cambiare ora la partita in casa e risporverare forse Brenna, che è uno di ruolo, eppure mi metti in panchina Bellini che è l'unico che dà un po' di vivacità, mi metti una mezza punta con tre punti, tanto senti un punto o zero, secondo me la differenza ora è zero. Quindi te devi giocare per vincere, non hai giocato con una punta centrale, quindi come facevi a Fagò? Paolo, così convogli anche te. È un campionato dove hai girato in due anni 80 giocatori e non hai trovato un 11 titolare, questo è il problema, il problema è a monte, non è ora, ora la matematica non ti condanna, ma quando hai tre squadre davanti i risultati sono complicati, Livorno poteva gestirle, io in cronaca a Gavorano ha detto per me il campionato di Livorno finisce qui quando abbiamo perso a Gavorano, è finito lì perché lì avevi in mano il pallino, eri te che potevi incidere, oggi anche se ne vinci quattro e non ci credo che le vinci, però giustamente dobbiamo essere positivi, gli altri sono molto più avanti, poi sono tre squadre, quindi domenica hanno perso le prime due, però ti ha superato il Grosseto, domenica prossima magari ci sarà un'altra defiance, ma te sei sempre a 4-5 punti e le partite sono sempre meno. Le problematiche sono che te non hai mai giocato con una difesa vera, perché a un certo punto ti sei inventato Tanasa centrale con un esterno, un 2005 che l'hai cappellato dall'inizio alla fine perché sei andato a trovare Goffredi che a me mi dovete spiegare che il giocatore è che in campo è telecomandato dall'allenatore, io l'ho sentito con le mie orecchie ad alto Pascio, perché ero con il trabattello sopra la panchina e tutta la partita fossati, accorcia, allunga, stringe, allarga, e alla fine del primo tempo gli dici, mister ma se mi mette in campo gioco così anch'io, da un ragazzo giovane mi aspetto e sappia stare in campo, poi i piedi ci sono da Serie A, da Serie B, da Serie C, da Serie D, va bene, però santa miseria, in campo il minimo sindacale lo deve saper fare un ragazzo. Poi è dura giocare con la maglia del Livorno in questi frangenti, questi ragazzi stanno dando quello che hanno, è inutile che ci si giri intorno, se mi chiamavano a me o chiamavano a lui a giocare a calcio nel Livorno avrebbero detto questi due non sono buoni, è vero, ma piccicci a me sono due, quindi gli errori sono stati fatti a monte, ci vuole un direttore sportivo che conosca la categoria, non si può andare a cercare la gente di Serie C come sento dire, in Serie C sono contratti da professionisti, significa che hanno dei benefit come alla Previdenza che loro utilizzano attraverso loro, sono contratti reali, in Serie D non c'è questo status, quindi chi vuoi che scenda, un giocatore che fa 15 gol in Serie C ma viene in Serie D nel Livorno, ora ci viene quando Livorno è in Serie C, ma ora in Serie D devi fare la squadra con i ragazzi di Serie D, però li devi conoscere bene, se no rischi come in questi due campionati che avrò visto girare 80 giocatori, non hai trovato 3 difensori e non hai trovato nemmeno un attaccante, quest'anno ne hai presi 6 ai 8, quasi nessuno ha inciso poi alla fine, niente, dietro hai giocato praticamente con un centrale che non è un centrale, perché Tanasa non è un centrale, è un centrocampista, bene, aveva avuto anche un intuito, perché in un certo qual modo qualche partita aveva anche tenuto, però poi è la coperta corta, non si può dare colpa sempre a due o tre giocatori, a 2005 che purtroppo non li abbiamo azzeccati bene, è proprio la squadra che manca, manca l'ossatura come giustamente diceva lui, manca un portiere di riferimento, un assassino in difesa, uno stopper vero come quello del Gavorrano che ora mi sfugge il nome, un centrocampista e un Moname, diceva Rocco che fa go, e tutti gli altri che li corrano intorno, l'olonna vertebrale, e non ce l'hai, ti sei attaccato a un ragazzo di 39 anni come Luci che insegna calcio, ma ha 39 anni, non è che può fare il boi all'impiccato, quindi ci speriamo tutti ancora, però è difficile, molto difficile alla luce soprattutto delle prestazioni, delle ultime prestazioni. Sì, perché questi ragazzi mentalmente dopo Gavorrano hanno mollato, c'è niente da fare, almeno questo a mio avviso. Chiediamolo subito appunto a Roberto, se dopo la sconfitta di Gavorrano c'è stata una ripercussione, magari proprio a livello morale all'interno del gruppo, va ricordato che comunque quella sconfitta non è che chiudeva completamente i giochi, perché se Livorno poi dopo le vinceva, vinceva con i Cenaia, vinceva con i Montevarchi, insomma a campionato era ancora tutto da giocare. Sicuramente quando siamo arrivati la situazione non era delle migliori, il gruppo era un po' giù, abbiamo fatto una rincorsa secondo me di 9 partite importanti, siamo arrivati poi finalmente alla partita di Gavorrano, che eravamo lì dopo tra l'altro una prestazione molto importante con la Pianese, cosa è successo? Che a Gavorrano sappiamo tutti com'è andata, la partita non è andata bene e un po' di contraccolpo l'abbiamo subito, sicuramente non è facile rincorrere e secondo me è anche vero che non è facile mettere la maglia di Livorno, però ripeto, sono ragazzi che non gli si può dire nulla sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto della professionalità, perché comunque alla fine sono ragazzi che si impegnano sempre sei giorni su sette e ripeto, anche domenica si è visto proprio alla fine della partita uno scorramento importante, perché comunque ci tengono a questa maglia e ci tengono a far bene, purtroppo non sempre si riesce. Ma come ti spieghi il primo tempo visto contro il Montevarchi e il secondo visto con i Cenaia, è una squadra che è stata proprio fuori dalla partita in quelle circostanze, è mancato proprio completamente l'approccio con Montevarchi, insomma 45 minuti abbastanza oserei dire imbarazzanti, poi nella ripresa qua cosina di meglio, in relazione soprattutto Mari di orgoglio, però nel primo tempo francamente tant'è che Fossati nell'intervallo non ha cambiato i quattro, proprio a dare un segnale. Sì sì, innanzitutto le scelte che si fanno durante la settimana sono in base agli allenamenti, quindi se c'è la volta che Bellini non gioca è perché magari ha fatto meglio in settimana un altro giocatore, faccio un esempio a caso, e quindi di solito si mette la formazione migliore sperando che sia appunto quella giusta. Sinceramente anche nel riscaldamento non si è avvertito una rilassatezza oppure che non c'eravamo, anzi abbiamo fatto un riscaldamento molto importante e poi invece quando ha fischiato l'arbitro purtroppo c'è stato un blocco mentale, a volte la testa fa più di qualsiasi cosa e è anche a volte difficile interpretare questi blocchi, sono sincero. Vieni a leggere anche il primo messaggio, è da te Jacopo, questo messaggio del nostro telespettatore, che senso esonerare i forzati a questo punto del campionato? Jacopo, sulle zone i forzati innanzitutto sei d'accordo con questa mossa della società, poi rispondiamo un po', secondo te può avere un senso, mancano quattro partite a termine, situazione in gran parte compromessa. Sì, allora, sembra che c'è Roberto qui, quindi dico sì, mi dispiace, no, però... Qui liberissimi ognuno a dire quello che pensa. No, mi dispiace, non ha senso dal punto di vista proprio pragmatico, perché non ha senso, mancano quattro partite, anche Pascali sì, può cercare di capire la squadra, cambiare qualcosa, ma non bastano per dare una scossa alla squadra, mi dispiace poi per i forzati anche perché comunque va dimostrato per quello che abbiamo visto noi, insomma, fuori dal campo, in sala stampa così, di essere una persona limpida, una persona che ci teneva, e che soprattutto comunque, nonostante ci siano stati degli errori anche magari in delle formazioni in diverse partite, è stato in grado di riportare l'entusiasmo in una piazza che era totalmente spenta, quindi questo è sicuramente un merito che ha avuto Fossati. La cosa che non mi spiego, come diceva anche Roberto, è questo calo di mente, che certo è vero, giocare a Livorno porta tutte le sue pressioni, però dopo una partita come quella con la Pianese, vedere il secondo tempo di Senaia, il primo di Montevarchi, insomma, sono davvero due squadre totalmente diverse in poco tempo, e quindi questo spaventa. Ancora sempre su questo, sull'argomento Fossati, abbiamo detto che il generale Fossati è una mossa dettata dall'esasperazione, Riccardo, va detto che se questa squadra ha avuto difficoltà sia nella prima parte di stagione, le stagione adesso, probabilmente come dicevi anche te prima, la causa del seno è a Monte, Favarin era partito molto bene, poi ha avuto un caldo, c'è stato desonere, Fossati dopo qualche partita di adattamento aveva avuto quelle quattro vittorie consecutive, che avevano riacceso la speranza, probabilmente poi se i risultati sono venuti in meno anche dopo, vuol dire che il valore della squadra è questo, cioè questa squadra più di quello non riesce a dare, è una squadra che magari va nel terzo, quarto posto, non di più. Allora, questo è certo, però è stata, come dice questo telespettatore, come hai letto te, una mossa della disperazione, anche se secondo me, voglio dire, in casa giocare con, te hai ancora anche i Giordani, che forse sono più due esterni, che due attaccanti puri e non giocare con una punta centrale, che tra l'altro nel secondo tempo quando è entrato Cori non l'ho visto male, anzi si è mosso molto bene, gli avrei giocato sinceramente con tre punte, poi come diceva lui, io ho sempre criticato la parte centrale della squadra, però innanzitutto il portiere non è male, perché a parte la presa, quella scellerata, a Gaborrano appunto, a Gaborrano il portiere ha sempre parlato bene, poi non è detto che con 30 giocatori, quanti ce ne abbiamo Roberto? Eh 30, che forse sono anche tre oppi dal mio punto di vista, però ti dico, secondo me non è detto che te non puoi costruire l'ossatura della squadra, cioè non è detto, puoi mescolare un po' le carte, però è come diceva prima lui, se te ti metti sempre in mano a Luci che ha 39 anni e devi dare invece un po' di ritmo, e Tanasa che è lento e non mi riprovi Brenna e non mi rimette in campo una punta centrale e due esterni che possano entrare verso la porta, cioè è logico che poi rimane quello, io te l'ho detto già, Roberto non so se l'ha visto Corcenaia, io come ti ho detto l'altra volta ho visto Tanasa il pallone, otto volte, Luci cinque volte, venti secondi, Roberto l'ho contato all'orologio, te quando... Eh no, la parte più inguardabile del Livorno è il centrocampo, non fa filtro e non riesce a difendere, non riesce a impostare il gioco e a dare velocità sull'esterni, perché te gli esterni veloci ce l'hai, ora sapevo che Camara se non sbaglio fa Ramadan, ho capito ma fa già un e fa Ramadan, infatti forse non a caso il rendimento è andato un po' in caldo non deve essere semplice comunque, è un giovane però, è un giovane, serve per il discorso quota, sul centrocampo sinceramente non sono d'accordo, perché secondo me Luci è uno dei giocatori ancora più forti che ci sono, poi abbiamo Nardi che è uno dei giovani secondo me più forti della categoria e secondo me non c'entra niente in questa categoria e Bellini è di nuovo un signor giocatore, poi un'alternativa a Sabatini, secondo me non sono d'accordo sul fatto che il centrocampo nostro non è un centrocampo che vale. Roberto viene sempre esaltato il centrocampo, viene sempre esaltato sull'1-2, io l'ho partito l'ho vista tutto, viene sempre esaltato. Sono opinioni. No, se uno sta in uno spazio, scusi, se te sta in uno spazio e quello ti viene incontro e mi attacca, è una cosa, ma se io ho 40 anni e mi fanno 1-2, l'uomo mi va via, perché quelli erano 23-25 anni, sembrava che quelli del cenaccio avessero fulminanti al posto dei piedi. No, ma lì è una questione di testa ragazzi, io credo che in questo momento, cioè il Livono è una giornata d'andata, quando affrontammo dopo Pianese e Gavorrano questa serie di partite diciamo, ora recuperiamo perché abbiamo incontrato le più forti, è lì che abbiamo perso terreno e lo abbiamo riperso ora e non c'era lo stesso allenatore e probabilmente non c'erano nemmeno gli stessi giocatori perché Favarino non ha mai fatto giocare una formazione uguale a quell'altra, se non altro Fossati gli aveva dato un'impronta, i titolari erano sempre i soliti, poi è chiaro, c'è il gioco delle quote, ogni tanto entrava Goffredi, ogni tanto non giocavo a Char-Shack, però alla fine il gioco era quello, il problema è che l'alchimia, questa squadra non l'ha mai trovata e non è una squadra che può vincere sette partite di fila, è una squadra che secondo me obiettivamente si merita il posto che attualmente occupa, il problema è tutto lì, non è una squadra che ha un centroavanti che ti consente come Grusseto di salvare qualche partita. No, c'è da dire una cosa, che nel momento migliore il centroavanti che era Rossetti si è fatto male. Ma sta recuperato Rossetti e sta a disposizione per... Sta recuperando, sta recuperando. Ma a questo sono d'accordo, se andiamo indietro l'uomo insostituibile è stato Bartolini. Sì. Bartolini era una persona che quando era in campo era un giocatore che faceva salire la squadra. Dettava le geometrie, non prendevamo mai un contropiede perché le linee di passaggio Bartolini le vedeva perfette e liberava Luci da un gioco che non era il suo, faceva l'interdittore. Quello che gli riesce mello, sradica palloni ed era un centrocampo equilibrato, si è fatto male lui. Siamo indietreggiati come gioco quindi abbiamo perso Cesarini perché non lo servivamo più. Ma avessimo avuto questi due, come dicevi te, probabilmente sarebbe stato un altro campionato. 15 punti rispetto alla prima. Però, qual è? Noi abbiamo perso subito e non l'abbiamo trovato sostituto. Con le quote ci siamo ingarbugliati, poi si è preso 4 portieri o 6 attaccanti, ma alla fine poi... Un po' di confusione, dice Cesar. La bramosia di prende giocatori serve un giocatore adatto alla nostra squadra. Noi ci manca il centrocampo, l'avevamo trovato Rossetti, ma anche lui è arrivato, era un fortunato. Ci ha messo un po' a entrare in forma, è entrato in forma, si è stirato. Prima di Gavorrano. Prima di Gavorrano. E certo che è un'annata disastrosa sotto... Cioè le annate nascono male, questa è nata male dall'inizio. Però non siamo stati incapaci perché le altre non è che hanno fatto molto bene. Perché noi se si va a guardare Pianese e poi Pianese e Gavorrano, noi ci abbiamo preso... Allora, con la Pianese si è preso due punti, due pareggi. Con il Gavorrano uno. Un punto. Prova a vincere tutte quante con loro. O perlomeno due. Due pareggi e due vittorie. Eri di primo. Nonostante tutti i discorsi che si fanno ora noi. È un campionato giocato al contrario, secondo me. Però noi non siamo stati capaci, lo stesso, di darci, nel momento in cui dipendeva da noi, quella scintilla in più. Poi, persa la partita di Gavorrano. Bene, perché l'abbiamo persa bene. Chiappur, Gavorrano, con la partita. Cosa che venivamo da una gran partita con la Pianese. Però anche lì ci manca il centro avanti. Non si è fatto con una uno. Strimi in zito. Scusa, posso rispondere a lui? Prego Riccardo, prego. Chi è capocannoniere in Serie A? Chi è capocannoniere in Serie A? Di B. Serie A? La pari? Eh? La pari? La pari. Nell'Ivoo non ce lo fa Go. Lo sai perché? Perché se te... Ma non ne arrivano pochi, dici, davanti. Ma ragazzi, ma se lui ci sa un centro avanti e te gli dai la palla a Palombella dal centro campo, cioè, non fa mai Go. Non fa mai Go. Cioè, te, Cori potrebbe essere anche in grandi centro avanti, io lo voglio vedere, in una squadra dove li crossano dall'esterno. Sì, vabbè, però in Serie C Cori non ha fatto tutti i stimi. No, hai ragione. Io ti ho detto potrebbe. No. Non che è. Però, se te dal centro campo prendi e vedi le solite palle a Palombella e Cori, che ha fatto pochi gonzi a Ricci, deve prendere, stoppare il pallone, girare e tirare, cioè, il centro avanti è quello. Rossetti, è vero che a ragione lui era quello che in forma ha fatto do Go, no? Tre. Tre in quattro partite. Non ha fatti tre? Mi sembrava due. Scusa. Vabbè, tre. Però, è anche vero che, insomma, e ti devi tanto da farli per andare a tiro, eh? Perché le occasioni o te le crei o non è che ti danno il pallone in un taglio, gliel'ha Fossati e l'allenatore di ora a dirgli, ragazzi, la palla va giocata a terra, bisogna cercare l'uomo nel taglio che va verso... Eh, hai ragione, ma te la mi parli di caccio. Io ti sto dicendo, guarda, secondo me c'è il centro campo del Livorno, a parte Tanasa e a parte, come si chiama, l'esterno, Nardi e Camaraa e Bellini, quell'altro, se vengono a far cacciotto con me, scusa Roberto, si trovano di fiorità. E che c'è gente troppo lenta, ma ragazzi, ma Tanasa è andato verso il pallone, quando il portiere ha rimesso la palla, andava a due, andava a due. È stato un infortunio, però, secondo me, cioè, Luci, secondo me, è un giocatore indiscutibile. Io ci voglio giovani, io voglio vedere i giovani che corrono. Luci, secondo me, è un giocatore indiscutibile, è un giocatore fortissimo, poi... Io ti sto accreditando, c'è Luci, io non ho detto Luci, io ti sto accreditando, vedrei quattro giocatori che, secondo me, domenica... Domenica non potevano giocare insieme con Montevarchi, dai, ma l'hai vista la partita? Domenica non potevano giocare insieme con Montevarchi, ma nemmeno Corcenaia. Probabilmente erano da cambiare... Ma Corcenaia era un macchino, il cellulare si è venuto a tirare, perché se si giocava io e te, come dicevi te, ma non ci sa gamba, quanti anni hai te? 60. E io ho 57, e non ci sa la gamba, e bisogna anche essere onesti, vai a fare quanto vuoi fare, 10 minuti, se non ci fanno, ci puoi mettere una luce che noi... A Paolo Corre, occhio! Jacopo, a di là di questo, effettivamente, comunque questa è una squadra che nell'ultimo partito fa molta fatica a costruire, fa molta fatica a creare occasioni limpide dal gol. Forse Riccardo vuole dire un po' questo, con un centrocampo che magari accompagna poco la fase offensiva e, onestamente, manca un po' di qualità dalla tre quarti in su, perché anche con una partita contro la Pianese, come dice Paolo, il Livorno ha fatto una grande prestazione, tanta intensità, ha messo la Pianese sempre lì, però poi si restringi dentro l'area, occasioni vere e limpide, non si è riuscita a crearle. Sì, ma quello fu anche Fossati a dirlo, che il Livorno, secondo me, quella contro la Pianese fu la migliore partita in questi ultimi tre anni, è stata intensa, è stata piena di ritmo, qualità, e sono arrivati tanti palloni anche sul secondo, morti, dove anche Fossati disse che il Livorno non era stato in grado di, magari, raccogliere con il tapin e metterli dentro, perché sì, manca quel tipo di attaccante, magari poi c'è Rossetti che però è molto bravo a prendere palla a spalla alla porta e magari negli ultimi decimetri girarsi, poi c'è da dire che il centrocampo va in difficoltà e sono d'accordo con Riccardo, cioè secondo me, ecco, vediamo Luci che, vabbè, niente da dire su Andrea Luci perché, insomma, è un pilastro del Livorno, ci mette sempre il centrocampo, esatto, costruttore, non l'hanno fatto in tutta la sua carriera, esatto, e poi secondo me Luci questa stagione non se l'aspettava neanche di giocare così tanto, perché noi mi ricordo che partivamo qui, anche ne parlavamo, che Luci doveva sì, giocare, però essere più un supporto dentro, fuori dal campo, più fuori dal campo, invece sta facendo un'altra stagione a ritmo elevato a quell'età e secondo me il fatto che deve far riflettere i tifosi è che nonostante abbia quell'età ancora sia in grado di mettersi risalto e quindi forse fa pensare che dall'altra parte manca un po' di sostanza, perché anche Tanasa è stata in intuizione di Fossati, anche tua magari, di metterlo in difesa e noi l'abbiamo apprezzata perché comunque Tanasa è diventato un altro giocatore, molto più affidabile sotto tutti i punti di vista, però in centrocampo era un doppione di Andrea Luci secondo me, sono due giocatori molto simili, ecco io l'unico forse che potrebbe fare il lavoro che diceva Davide è Sabatini che però forse quando parte dal primo minuto fa un po' di difficoltà. Esatto, come mai Roberto, Sabatini è un po' un mistero, perché quando è entrato a gara in corsa è sempre fatto bene, nell'occasione in cui l'abbiamo visto al primo minuto invece ha sempre fatto bene. Siccome tecnicamente è fortissimo. Sì, tecnicamente è un giocatore fortissimo, ma anche fisicamente è un motore importante, probabilmente deve arrivare ancora alla maturazione totale perché ci sono momenti, soprattutto quando parte dall'inizio, che magari è un attimino più in difficoltà, mentre invece quando entra a partita in corso, mentalmente magari è più libero e riesce a fare cose importanti, che sono le cose che fa poi in allenamento, però è un giocatore molto molto interessante. Ancora un messaggio, prima di dare poi linea alla regia per il primo sacco pubblicitario, buonasera, tanto di Cappella a Pascali che si merita la panchina della prima squadra, però così si è messo in difficoltà gli juniors che sono nel pieno della loro stagione. Roberto, su Pascali, qual è stato il primo approccio e se sta studiando magari non ci vuole rivelare le possibilità, ma se magari cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, abbiamo visto il Livorno per gran parte di questo campionato ha giocato con 3-5-2, se magari qualche variante la state un po' preparando. Adesso innanzitutto sono pochi giorni, quindi tra tutto il trambusto e tutto non c'è stato molto per lavorare, il mister ha cercato di lavorare più che altro sull'intensità, sulla serenità dei ragazzi e quindi per andare a affrontare al meglio la partita di Figline, tutto qui. Sicuramente è arrivato pieno di entusiasmo, poi Niccolò praticamente da quando siamo arrivati eravamo in contatto con lui e si è installato subito un bel rapporto dall'inizio quando siamo arrivati e quindi oggi si affaccia a questa esperienza di queste 4 barra, anzi per noi anche 6 partite, perché l'obiettivo minimo sono i play-off. E arrivare fino in fondo ai play-off? Però un piccolo lumicino di speranza lo dobbiamo avere, perché comunque alla fine 12 punti non sono pochi, poi bisognerà fare il meglio possibile. Ma la squadra ci crede? Perché dopo gli ultimi risultati magari moralmente qualcosa ne li senti inevitabilmente, c'è ancora un po' di speranza? La squadra ci crede, ma come ci credeva anche prima di cenare che sapevamo che era una partita a trappola incredibile e poi ci siamo caduti con tutte le scarpe, però ci crede, ripeto è una minima percentuale quella di poter vincere il campionato, ma dobbiamo crederci, è un obbligo per noi. Un messaggio che sapete i Berni, simpatico. Il doge. Per il signor Berni, se c'era l'autario, vedrà che si era già vinto il campionato, anche se giocava tre quartista lui. Mi sa che a me. La mia è una battuta, ovviamente. Quindi pesa. Diamo linea alla regia per il primo sacco pubblicitario, poi ripartiamo dai vostri messaggi. Dentisti il sorriso. Massima professionalità, impegno e qualità. A vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiati. e 10 tra assistenti e addette alla segreteria. Dentisti il sorriso. Il sorriso amico a bianco del cittadino. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e oltre cardiacei e pressori anche a domicilio. Ordini acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti. Disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti, per starti sempre più vicino. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrosseria Marsili, a Livorno, il via Cessioni 59, telefono 0586 40 96 40. Livorno 24 Livorno 24? Livorno 24 Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Eccoci di nuovo in studio, come promesso ripartiamo dai vostri messaggi. Buonasera, è inutile prendere 200 giocatori a stagione in modo sconsiderato. Bisogna fidarsi a un DS competente che conosca a fondo la categoria. Abbiamo ad esempio la Pianese, adatti stagioni, che lotta al vertice. Infatti hanno un DS valido che sta dimostrando la sua capacità nello scegliere ogni anno i giocatori adatti. Grazie, ci lo manda Marco da Livorno che ringraziamo e salutiamo. Paolo, questo lo dicevi anche te, tanti giocatori. Forse c'è stata un po' di confusione. Mi viene a mente l'esempio dei portieri. Insomma, quattro portieri è sintomo che un po' di chiarezza è mancata. Perché siamo partiti con Biagini, poi abbiamo visto Albiere, a un certo punto anche Ciubanu. Poi sul mercato è arrivato Facchetti. Almeno in questo momento si è avuta un po' di continuità con Facchetti, che è stato il titolare disegnato. Sì, è un sintomo forse di idee poco chiare, che si è navigato un po' a vista fin da quest'estate e poi anche nella sessione invernale di mercato. Sì, come diceva giustamente questo telespettatore, ma lo avevo già accennato anch'io anche in altri ambiti. Il problema è lì, la squadra si costruisce a luglio, poi può fare qualche ritocco, però lì devi dare una dimensione che sia quella non soltanto tecnica ma anche mentale. Le partite che vengono giocate da squadre come Livorno, Grosseto, le avversarie le affrontano come se fosse una finale di Champions League. Quando mai le ricapita di venire a giocare in uno stadio vero, con un pubblico importante? Quindi ci vuole gente che quando indossa una casacca che ha peso riesca a gestirsi durante la partita e nei momenti in cui obiettivamente l'avversario ti mette sotto, ma a te riesci comunque a rimanere freddo, a saper trovare la linea di gioco giusta, a trovare il compagno, aiutarlo. E questo purtroppo Livorno ci è riuscito sempre in maniera poco costante. Siamo rimasti lì perché comunque questi giocatori per la categoria non sono scarsi, però non hanno saputo trovare quel bandolo della matassa giusta per ammazzare il campionato. Ammazzare il campionato significa vincerne tante di fila come avevamo bisogno ora. È una squadra che ha dimostrato che non riesce a vincere tante di fila perché? Perché non c'è un centravanti di peso, vero, che segna o perlomeno non lo ha mai avuto a disposizione perché ha trovato Rossetti, ma si è infortunato, Cesarini era un giocatore forte, ma non abbiamo mai parte delle prime partite dove effettivamente in aria ci entravamo con quattro giocatori, anche Cori faceva la differenza, poi se in aria c'è un giocatore solo, forse solo Maradona riusciva a giocare uno contro quattro, soprattutto se poi c'è anche le spalle alla porta. Perciò sì, bisognava saper scegliere, ma anche allenarsi con 30 ragazzi, è complicato, perché qualcuno rimane fuori, quindi anche lì la società deve fare tesoro di questo e per il pro futuro, indipendentemente dalla categoria, cercare sul mercato magari attendere quel giorno in più, non aspettarsi il nome altisonante che è quello che ci aspettiamo noi perché ci piace avere i giochi, però poi i 24, i 26 che fanno parte di una rosa devono essere integrati tra loro come caratteristiche, sia mentali che fisiche, che probabilmente anche di età. No, perché poi lo sai, l'anno scorso per esempio, mi ricordo l'Arezzo che iniziò a stentare e a metà campionato prese Gucci. Che l'ha giocata la stagione, Gucci che sta facendo bene anche in C questa anno. Gucci, e fa bene anche in C, cioè lì ci voleva secondo me quel ritocchino lì. Poi è vero che come diceva Roberto, come dicevano loro, è venuto Rossetti, però ha avuto la sfortuna che si è fatto subito male e quindi ora... Sfortuna, oppure comunque è arrivato che era fermo da novembre, devi mettere un fattore di rischio quando prendo i giocatori fermo da un paio di mesi, lo puoi mettere in conto diciamo purtroppo. È vero, sono d'accordo con te, però poi come ha detto anche lui Bartolini era fondamentale e importante. Il problema è che ti è mancato. Durante tutto il mercato non c'è stato un grado di trovare un cacciatore con quelle caratteristiche da mettere a supporto del centrocampo, e ti è mancato. Quindi ora speriamo queste quattro partite, speriamo nei play-off, non so più cosa sperare perché bisogna bene o male togliersi un po' da questa categoria che è una cosa che sinceramente un po' secondo me tifosi iniziano a soffrire. Roberto, Paolo diceva della rosa ampia che diventa anche difficile da gestire, effettivamente così quando a disposizione si hanno 30 ragazzi perché poi inevitabilmente ogni domenica qualcuno va in tribuna e ovviamente uno se va in tribuna contento non sarà, è difficile e se sì quanto è complicato gestire una rosa così ampia? Sicuramente non è una cosa semplice perché comunque alla fine 30 giocatori compresi i portieri non sono pochi, sicuramente come ho detto prima sono ragazzi che hanno un certo valore quindi capiscono e capivano le scelte, logicamente nessuno ha piacere andare in tribuna o non giocare o andare in panchina e basta, però alla fine si sono sempre tutti messi a disposizione poi c'è stato qualche piccolo infortunio, qualche acciacco, una cosa in altra alla fine siamo riusciti, tutti quanti nella nostra gestione hanno giocato chi dall'inizio, chi ha partita in corso, alla fine sono stati tutti i protagonisti in queste 12 partite nostre Un messaggio buonasera, sono Andrea da Livorno, se Livorno vuole avere qualche chance per vincere il prossimo campionato deve prendere ora un DS esperto, per favore non parliamo di Doga, brava persona ma non conoscitore di calciatori della categoria poi deve cercare di prendere uno di questi due mister o indiani o braia pagandoli profumatamente perché sono tra i pochi che possono reggere la pressione di Livorno e poi il presidente deve assolutamente lasciare fare l'area tecnica per tutto l'anno senza interferire mai Jacopo, da questo messaggio cogo lo spunto per chiederti Pascali, secondo te è solamente una soluzione ponte per arrivare a termine della stagione oppure può giocarsi anche qualche chance di permanenza in vista del prossimo campionato? Allora, non lo so perché Eschua è abbastanza imprevedibile L'abbiamo imparato a conoscere effettivamente Secondo me, questa è una cosa che volevo dire anche prima mi ricollego alle zone di Fossati e le zone di Fossati è figlio anche dell'inesperienza di Eschua nel calcio perché a quante partite di distanza non ha senso appunto mandare via un allenatore che comunque insomma il suo l'aveva fatto, la squadra è quella che è come abbiamo detto fino adesso quindi è difficile trovare insomma chi ti dà la scintilla Pascali sicuramente si gioca per la sua carriera una fetta importante perché prende la guida del Livorno E' sempre una bella vetrina Esatto, è sempre una bella vetrina Eschua in questi giorni ha parlato un po' ovunque e ha fatto capire che sì, ovviamente sono vecchio No, sono vecchio, ma lo troppo e fa parlare dopo il Berni Ovviamente no è normale che si pensi che Pascali possa essere un traghettatore dobbiamo vedere quello che chi riuscirà a fare ripeto, anche per uno non è neanche semplice perché quattro partite sono davvero poche poi per dimostrare un'identità, un'idea o uno schema e quindi sinceramente non mi so sbilanciare su questo Ripeto, Eschua è imprevedibile e la sua inesperienza può portarlo un po' a prendere scelte un po' scelerate Posso dirti una cosa? Per esempio, posso finire? Scusa No, un po' finire perché ti volevo dire una cosa? Io, c'è anche Roberto e io sinceramente gli darei l'opportunità a questo ragazzo No, no, sì, ma poi sono d'accordo Ma sai perché? Perché un giovane cecinese con lo Juve Stabia ha vinto il campionato con dei ragazzi sconosciuti Vero, vero Questo giovane cecinese io l'avevo proposto È stata accostata a Livorno in estate L'avevo perché ho delle ragazze che sono amici suoi La sfortuna fu che lui era ancora legato alla Lucchese che poi fallì E rimase un po' in birri C'è un contratto con la Lucchese Eh? La Sena No, era con la Lucchese o Corziana? Corziana Veniva da Lucchese Era Coriziana E rimase un po' E poi a Livorno fece altre scelte Ma lui disse A Livorno ci vengo a piedi da Cecina Ma è rimasto qui Poi ha fatto un campionato Una cavaccata Io l'ho vista giocare col benedetto Però sempre per Perché poi i campionati si vincono in team Cioè Ci vuole Una linea Per cui tocchi tutti i componenti della Rosa A prescindere dai giocatori Ma il direttore sportivo L'allenatore Il viceallenatore Devono essere azzeccati tutti e tre E soprattutto Se li dai una delega Li devi lasciare lavorare Ecco in questo Se posso permettermi Di fare una critica alla società Esciua Spesso si muove un po' di pancia E questo gli hanno usciuto Ma non lo fa apposta Non è che uno Viene a Livorno Compra una squadra E poi si diverte A far Tabula rasa Come diceva Giustamente lui È un Presidente Con un'esperienza Che si sta facendo Speriamo Che questa esperienza Che si fa Li porti Chiaramente Quello che servirà Per il pro futuro Cioè Deve avere chiaro Il concetto di delega E lasciarla La delega Poi Vai a chiedere Ai diretti interessati Come stanno andando le cose Però la scelta Del direttore sportivo Dell'allenatore Del vice allenatore Deve essere una scelta Alla quale Nel momento in cui Ci credi Poi li devi lasciare Lavorare tranquilli Tutto questo bailame Di giocatori Non ho mai capito Se erano Gli allenatori Che li volevano Oppure Era Iciua Che Mi li danno Li prendo E a volte Non serve Cambiare per cambiare Collegandomi appunto A questo Questo discorso Che faceva Paolo Insomma C'è stata Un po' di confusione Anche a livello societario Perché tante dimissioni Dimissioni di Pinsani Di Favarin Di Gianni Palumbo Padella stampa Gianni Tacchi Qualcosa che non quadra Evidentemente non c'è Anche perché Persone comunque Legatissime a Livorno Soprattutto Gianni Palumbo E Gianni Tacchi Per il Livorno Penso darebbero qualcosa di loro Se ti dimetti Vuoi dirgli che insomma Qualcosa Di non così tanto Coesa all'interno Non c'è No non c'è E Allora È normale In una stagione Magari una dimissione Ne sono Sono normali Cioè possono capitare Però il problema È quando appunto Vivi Gianni Palumbo Che va via Gianni Tacchi L'ha detto stampa Che va via Cioè l'ha detto stampa Che si dimette L'ho visto solo a Livorno Cose mai viste E cioè c'è riuscito Perché Però è anche abbastanza Comunque dure Da parte del stesso Gianni Tacchi Che poi appunto Ha spiegato Tramite un post Pubblicato sui social Il motivo che l'ha spinto Alle dimissioni Sì No infatti sono Su questo poi Non chiedo a Roberto Per non mettere in difficoltà Non lo so No 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 Ma dicevo io Mi ricollego dal punto di vista mentale Come dicevete anche Ecco io Il poco entusiasmo Che ho visto Poi sicuramente Ovviamente un giocatore Scende in campo Per vincere Cioè Quello non metto un dubbio Che ci credano Cioè Mi fido ovviamente Però tutto questo polverone Che ha alzato e sciua Durante la stagione A me Giocatore Non mi farebbe stare tranquillo Tra l'altro erano due persone Che saluto Mi associo E mio dispiacere per non vedere più I due Gianni Nel Livorno Ma erano Amaranto Fra l'altro Erano due persone Che avevano fatto anche Grande ambiente Stimati dai giocatori Stimati da tutti Averli persi E non voglio entrare in merito Perché non sono così addentro Però Da fuori Dispiace immensamente Per la professionalità E la caratura E la passione Di questi due Ragazzi Gianni ti dico ragazzo Anche se sei ragazzo anziano Però Parlo di Palumbo Per Gianni Tacchi Anche Gianni Tacchi Però Sì Effettivamente Dispiace Già Non avere annoverato Figure Che Diciamo La curva Acclamava All'inizio Ma anche lì Sono state fatte scelte diverse Poi Perdi in corso d'opera Due persone Che per il Livorno Veramente Hanno dato Tutto quello che avevano Ecco Sono d'accordo con te Che Obiettivamente Poi La squadra Non può non risentire Di questo Si può solo dire La maglia del Livorno Pesa Pesa per tutti Pesa anche per il Presidente Probabilmente Io E qui No 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 Per chiudere Appunto Cioè Dicevo prima Dimissione detto stampa Poi di Gianni Palumbo Cioè Esciò dovrebbe capire Che forse No Se ci sono tutte queste conseguenze Tutte queste pedine Che cadono Si sfilano Cioè Non parlo di problema Però magari la causa È anche il suo modo Di approcciarsi Una riflessione Esatto Una riflessione Dato che comunque È il suo primo anno Nel calcio Ci sarebbe E questo Io non l'ho visto Sinceramente Anche nelle parole Che ho ascoltato In questi giorni In diverse Insomma Ho visto abbastanza Esciò Ha preso sulla difensiva Non sono d'accordo Perché Ha fatto degli errori Che Livorno Sta pagando Questo abbiamo anche Un paio di messaggi Questo con Pascali Con tutto il rispetto Il prossimo anno Parti con molta diffidenza E abbonamenti a minimo Sindacale Perché la gente Non ha più bonus Al presidente Poi aggiunge ancora Quando una persona Come direttore Tancredi Sulle pagine del Tireno Dice Io ad Esciò Non avremmo dato Il Livorno La dice lunga Sulla situazione attuale Della società Ma secondo voi Un giocatore ora Sceglie Grosseto O Livorno Per me Grosseto Sempre e tutta la vita Riccardo A di là di questo Grosseto e Livorno Effettivamente Risco che L'entusiasmo Che si era ricreato Anche nei mesi scorsi E con la ripartenza Adesso c'è Venga meno Insomma Perché in città Si respira Una certa diffidenza Una certa disillusione Il rischio è Di ripartire Il prossimo anno Con davvero poca gente Poi al seguito Secondo me Ha ragione Jacopo Ha ragione lui Cioè Non puoi mandare via Due persone Che fanno Gruppo E il gruppo E che lo tengano coeso Tengano tantissimo A Livorno Alla maglia di Livorno Alla città E se temi lì fuori O li metti in condizioni Di andare via Secondo me Fa un grosso errore La prima cosa È creare una società Poi creare un gruppo Chiudere il cerchio Anche con la città I tifosi Vedere di trovare Un attimo Un po' di dialogo Perché si può dire Tante cose Però a Livornese Secondo me Io ho sempre detto Un incrocio un po' Tra la Napoletana E il Cubano No Siamo sempre Quelli solari Sorridenti Vogliate lavorare Sertami addosso Viva Cala fuori Andare al mare E le ciabatte Infradito Non siamo così Poi si va tutti All'istadio E all'el Livorno È logico che Se poi non ti sta bene E mi dici Che io conosco La curva Livornese Non ti sta bene Determinati atteggiamenti Mi togli Addirittura Dal salone dello stadio La curva Poi ce la rimetti Poi vieni Contesti E quindi C'è una parte Della città Forse Ora è diffidente E il prossimo anno Secondo me C'è già Terra bruciata Intorno Cioè dovresti Minimo a minimo Le prime dieci partite Non ti dico Non ti dico Vincere tutte Ma Non lo so neanche Non fare subito Un mercato Con la voce grossa Fa capire Quali sono le ambizioni Però sai Come dicevano loro Il tifoso Spesso Non guarda Il calciatore Che viene E che non sa com'è Se non lo conosce Guarda il nome Come tutti E noi Come diceva lui Siamo in Serie D Quindi ci vuole Un direttore sportivo Che conosco la Serie D Come fu Giuliano Sili In Serie C A tempi dei tempi E un Renzo Melani Della Serie D Che Braglia L'ha vinti In Serie C I campionati Ma Serie D Non me lo ricordo Indiani l'ha vinti Però Antti Indiani l'ha vinti Sì Sì Però è anche vero Che gli dà le corrazzate Quindi Qui Sandonato Ha vinto con il Sandonato Sì è vero L'altro anno con l'Arezzo Era una bella squadra L'Arezzo Cioè se te li dai Oppure fai un mercato Così altisonante Che dici C'ho dei giocatori Che voleva così bene a Livorno Come ha fatto L'anno scorso Due anni fa Quando era il Catania Che prese dei giocatori Che secondo me Potevano fare qualcuno Ancora la Serie B Perché l'Odi C'è mancarci Che era uno spettacolo Come il Trapani di quest'anno Come il Trapani di quest'anno Dici Via prendo l'oro Voglio spendere un po' di soldi Invece di prenderne 40 Ne prendo 20 Spendo come Per quei 40 E ho creato una corrazzata E fa così Però io ti ripeto Trovare Come dicevo Prima Lui se lo ricorda benissimo Un Giuliano Sili Della Serie D E un Renzo Melani Della Serie D Che poi ti portano Quei 5-6 calciatori Che conoscono E lì Intorno si creano Una squadra Non è facile Poi un'altra cosa All'inizio Molti della stampa Non erano d'accordo Secondo me Con Eschua E con l'arrivo di Eschua Erano un po' diffidenti Io ho letto un giornale Dove questa settimana Dicevano Martedì un articolo Diceva Il Livorno è tutto da rifare Secondo me Questo non è vero Perché ci sono dei calciatori Come giustamente Dicevano anche loro Per esempio Nardi e Camarà Nardi secondo me Il portiere è buono Cioè ci sono quei 6-7-8 ragazzi Che puoi tenere Io non puoi riprendere E riprendere altri 20 giocatori E mandarnevi a 40 Così in due anni Ne hai visti i 60 Non costruisci niente Devi creare su uno zoccolo Quella squadra Che il prossimo anno Ti senti finalmente Di vincere il campionato Siano da queste categorie E se prendi i riparti Sempre da zero Non ci riesci mai La mia paura Che il prossimo anno Lui riprende E riparte da zero La mia paura è questa Roberto Frenomi che ha fatto Riccardo C'è anche quello di Cuccio Mi venne automatica La domanda Come mai questo giocatore Che forse è il piede migliore All'interno della Rosa Si è spesso sacrificato Nel giocare Nel 3 dietro Non farebbe Ma sarebbe a caso Che giocasse più alto Perché visto che I rifornimenti davanti Scarseggiano Magari Una spiegazione Tecnica e tattica Di come Cuccio Si è stato sempre impiegato Come terzo di difesa Fin qui praticamente No Sempre no Però nell'ultima partita Allora fino a che lui Si è fatto male Prima di farsi male Giocava da quinto Quindi giocava nella sua posizione Poi si è fatto male Contro il Givi Borgo E' stato fuori tre settimane E' stata una perdita importante per noi E comunque Poi abbiamo provato a farlo giocare Nel 3 dietro Perché comunque è l'unico mancino Che ci poteva dare un'uscita Da quella parte In fase di possesso Ed è un giocatore Che in quella posizione Comunque può rendere Anche perché c'è calcio E nella maniera propositiva In cui giochiamo E giocavamo Aveva anche possibilità Di andare in avanti Crossare E fare quello che Diciamo fa sempre Ecco Ancora un paio di messaggi Costa un altro di Genova Che entra nel consiglio di amministrazione Della PL Questo fa riferimento Appunto alla formazione Livornese di basket Il calcio a Livorno Non lo vuole nessuno Dopo quello che è stato fatto A Grande Spinelli La gente dovrebbe ricordarsi Di come è stato trattato E poi aggiunge Mazzoni deve stare in tribuna Ma nessuno lo dice Roberto sulla figura di Mazzoni Che è un po' spesso discussa Qual è il suo apporto All'interno Spesso ci mette la faccia Anche in conferenza stampa All'interno del gruppo Luca è una persona Che è eccezionale Secondo me E' un livornese E' uno che tiene per il Livorno E' un grande conoscitore di calcio Secondo me E' una grande fortuna Che lui sia nel Livorno Noi quando siamo arrivati Abbiamo avuto la fortuna Di rapportarci con lui E ci ha dato una grande mano In questi tre mesi E quindi secondo me Luca è una persona Veramente Veramente importante Per una ricostruzione Poi ancora Questo evidentemente E' arrivato qualche minuto fa Ha ragione Riccardo Nemmeno Lautaro Facevano con questi E nemmeno Diego Maradona Da solo Li vinceva Grande Riccardo Questo te l'ha scritto Te da solo Ti abbiamo visto Hai ragione Riccardo Ho smesso di ascoltare Giusto Poi ancora Non è ancora finita Se facciamo 12 su 12 Una possibilità Può ancora esserci Jacopo Questo è molto ottimista Vi mettiamo a video La classifica Così vediamo un po' Facciamo anche il punto I 12 punti Livorno vuol dire Che chiuderebbe a 65 Possano bastare Per vincere il campionato Alla pianese Per arrivare a 65 Ne basta fare 7 Infatti Per me è che Hai tre squadre davanti Che almeno che non facciano Un'Arakiri Come magari Sto facendo il Follone Che la vorranno E' dura Ed è dura Anche per il Livorno Vincerne Così tante Perché non a parte Nella prima Ma facciamo Un punto per ipotesi Se Livorno le vince tutte Secondo te Bassa no? 65 65 Ti fa Per vincere il campionato Comunque un punteggio basso Sì Non sa che secondo me Comunque siamo ottono lì Se non è 65 E poco di più Perché Cioè Non è un campionato Che va a un grande ritmo No è questo Aumentare il piano Esatto Esatto E ti fa capire Appunto Che 67 punti Vorrei sentire Il pensiero di Allegri Che lui sempre Lava a dare questi numeri Però ti fa capire Che è un campionato Appunto Che ti aspetta Che ha aspettato Livorno E Livorno non è stato In grado poi Di riprenderlo E quindi Posso però capire Da una parte L'entusiasmo La speranza Perché è giusto È giusto in quello Che dici te Riccardo Se ci crede il Grosseto Che ha un punto in più Perché ci arrivi In maniera opposta Che arrivi con due pareggi Contro squadra di bassa Classifica Il Grosseto è andato a vincere In casa della Capolissa Quindi ovviamente L'entusiasmo È diverso È vero Però Ti ripeto Per lo stesso discorso Che facciamo È un campionato Comunque Che ti lascia La possibilità Di sperarci Però Diciamo Sono le prestazioni Che forse Dando meno Meno fiducia Perché Ecco manca un po' Io ho visto Proprio mancanza Di entusiasmo Ma anche forse Di fluidità E secondo me Incide anche poi Tutto quello Che abbiamo descritto Finora Dalle scelte societarie Anche magari Ai risultati Che non arrivano E poi un giocatore Magari Lo risente Sì però scusa Secondo me Questo campionato Verrà vinto Dalla prima Di uno Due punti Rispetto Cortovunzi Non è scusa Neanche l'arrivo Maria a pari merito Perché la sensazione Un arrivo a pari merito Ricordiamo Fra l'altro a pari merito In caso di due formazioni A pari merito È previsto Lo spareggio In caso di tre formazioni A pari merito Che potrebbe anche starci Vista la situazione classifica Viene fatta la classifica Vulsa Tra le tre Le prime due Disputano la finale Lo spareggio Per la promozione E la terza ovviamente Quindi guardando i punti Che ci sono un pale Guardando le partite Guardando i punti Che hanno queste squadre Non penso Che ci sarà una Che Anche perché non c'è mai stata C'è uno stacco Incredibile Poi È vero Jacopo Che Ci sono stati dei problemi Come si è detto tutti Tutti e tre Dei problemi Societari Di quelle che c'è stato Troppe le rivoluzioni E altro Però è anche vero Che Come io ho già detto Ci sono squadre Che hanno lottato Per andare in Serbia In Serie A Dalla Serie B Magari Era vicino a fallire O avevano dei problemi societari Tutti Diversi dai nostri Cioè poi In fondo Ti vai in campo Giochi a calcio E quello che succede In società Te ne deve fregare di meno Cioè tu non devi pensare A quello Che succede nella società Se a te ti arriva lo stipendio Perché non è che Non ti arriva lo stipendio A te ti arrivano soldi Devi andare in campo a giocare E basta Se io ho mandato via Tutti E voglio giocare a porte chiuse E senza ti fossi Attenti Non interessa a nulla E devi giocare Per vincere Cioè Secondo me si cerca Anche Di appigliarsi a qualcosa Questo è vero Riccardo Per i giocatori Sono persone come tutti noi Fra di loro parlano E quindi magari I social Da qualche rumor Cioè dall'esterno È difficile rimanere Completamente I social Influiscono da morire Sì Però quando non c'erano social Per esempio E mi ricordo Del Messina Che venne salvato Da Lucarelli No? Che non c'avevano una lira Si salvarono Quelli cos'erano? Avano staccato la spina Completamente Dalla società Uniscotevano Cioè Lucarelli O Messina o Catania Non mi ricordo Catania A stento Cioè Lucarelli Ci metteva i soldi Per pagargli Le trasferte Cioè Questi allora Cosa avevano fatto? Avevano staccato Dalla società Cioè Ti un attimino Cioè La professionalità Il professionismo Che poi questi ragazzi Siano professionisti Io Non la metto un dubbio Però Che dovrebbero forse Staccare anche da tutto Giustamente A ragione Te C'è delle persone Sono delle persone Che purtroppo Risentono Di questo caos Societario Che c'è stato Che c'è Sicuramente A un certo punto Bisogna anche dire Proviamoci Proviamoci Questo bisogna farlo Già prima Secondo me Corre un paio di messaggi Il presidente è una bravissima persona Ma l'allenatore Non lo deve scegliere Il presidente Ma è di essere Invece lui vuole fare Colloqui con tutti E questo è deleterio Al massimo Vedremo E poi aggiunge Braia Allena il gubbio Con tutto il rispetto Non Catania o Avellino Quindi se fa un'offertona Per me può anche venire Il problema è che il presidente Non la prende Una figura Così ingombrante Qui appunto Si guarda già Al prossimo anno Jacopo A dirà dei singoli nomi Indiani Braia Ripartiresti da Un allenatore Emergente Un allenatore invece Che in passato Mariam che è passato recente Campionati l'ha vinti Con le spalle larghe Perché comunque A Livorno Roberto lo sa benissimo Insomma La pressione c'è Soprattutto in questa categoria In cui Praticamente Livorno Ogni partita è obbligato a vincere Ogni partita che non vinci È un fallimento Ma sai non so L'allenatore emergente Lo abbiamo visto Abbiamo visto Collacchioni E' vero che la Rosa Non era In grado di vincere Il campionato Però ha fatto fatica Ma come ha fatto fatica Anche lo stesso Favarin Che magari Non è più Un allenatore emergente E sai Quello Non lo puoi mai dire Ci vuole la bravura Poi di saper Vincere un campionato Di saper cogliere I momenti Sicuramente Questo lo fa bene Indiani Indiani però Anzi a recicolarezzo Quindi Se non c'è Un progetto valido Forse A Livorno E' difficile Attrarre anche un nome E' quello Su cui poi Deve lavorare anche Shua Su costruire Un progetto Credibile Valido E io non è Però è quello Che è stato sbagliato Anche all'aprile Proprio era un anno fa Nello scorso anno Perché Troppi proclami Troppi monologhi La conferenza fu Esattamente E' il mio compleanno 12 aprile domani Quindi Però insomma Troppi proclami Poi non mantenuti Da prima mese Gettate al vento E lì poi Ha pagato il prezzo Appieno Perché Anche ultimamente Ha detto che E' vero che Sono subentrati A aprile Come società Ma hanno iniziato a lavorare A luglio Sì Però Però Jacopo Io quella conferenza L'ho anche riascoltata di recente Lui Quella conferenza di 12 aprile Quindi mi confermi Disse allora Quest'anno abbiamo tempo Come gli ultimi anni Per programmare E allora Se me lo dici per quest'anno Mi sa un po' di alibi Perché già allo scorso anno Avevi detto che avevi tempo E poi insomma No di alibi Io me ne sono segnati Ne ho trovati diversi Nelle ultime interviste Con i secoli Ma Insomma Non si va da nessuna parte E questo deve Deve capirlo Esciuga Deve appunto Costruire un progetto valido Che invogli Giocatori Allenatori A venire a Livorno Magari anche per costruire Come sua intenzione Come ha raccontato lui Diverse volte Poi Uno stesso progetto A lungo termine Però insomma Ma il progetto Ci vogliono persone esperte Deve partire anche E soprattutto Dalla logistica Te non puoi continuare A spendere soldi Che sono soldi buttati via Nei campi Dove poi Esatto Si trovano a Transumare Quando al CONI Poi al CONI Arriva a gennaio No Perché arriva al nazionale Centro sportivo sarebbe Allora La prima cosa Che deve fare Il mio presidente Chiunque sia Da sciua A chi sarà È Comprare E fare Dei campi di calcio Fare Un qualcosa Dove Alla fine Ti riconosci Perché così Non ha senso Così a bilancio Sono soldi buttati Non investi mai Allora Ti vuoi fare un progetto Per andare su Per fare un progetto Per andare su Devi avere campi tuoi Ci devi avere Una logistica importante Perché Nardi È stato un miracolo Ma le squadre di Serie A Non te li danno Quei giocatori Perché poi Sono cani sciolti A giro Per tutto il giorno Quante ore Si allenano Due Tre Poi dopo Si fanno Ci vuole un complesso Dove Dove vengono seguiti Curati Dove ci deve essere Dietro Una professionalità Propria Di un campionato Che non è quello Che stai affrontando Ma quello Per cui stai Gettando le basi Per il futuro Finché Non fai questo Sarà sempre Complicato Perché anche Allenarsi ogni volta In campi diversi Gli infortuni Io mi ricordo Due anni fa Primo anno di Toccafondi Si andavano a allenare Al campo di Vicarello Io parlai con Igor E mi disse Oh ma io nemmeno Se ci cammino Questo non è un campo Che dovete andare via subito Per quello Noi siamo comunque Fortunati Perché Almeno io Tre mesi che sono qua Praticamente ci siamo sempre Allenati al CONI E io sfido chiunque In Serie D Ad avere un centro sportivo Del genere Si però in bilancio Quelli sono soldi Che non sono spesi Io parlo Della parte Tecnica Quelli sono soldi spesi Non sta investendo Si si Quello non ci mancherebbe Deve investire Allora se investi Il progetto va avanti Se non investi È sempre a tappare E allora Si parte Dalla parte logistica Andare su Altrimenti diventa Complicato Perché te Quei soldi lì Una volta che li hai spesi E lì ma tu Poi piano piano Ti ritornano sotto forma Di giocatori che formi Giocatori che vendi Che compri La categoria che sale L'isponso che arrivano Anche per un settore giovanile Esatto Altrimenti Sei destinato sempre Alla coperta corta E allora O hai la fortuna Di trovare Quell'annata Per cui ti va tutto bene E allora vai su Però poi dopo Andiamo su E poi Che facciamo Zerici Ma è appunto Senza Senza una programmazione Non è reale Esatto No ma poi Questo vabbè Ora noi parliamo di Asciua Ma No ma io ora No 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 Appunto stiamo dicendo Il problema che esiste Da anni Da anni Esatto Questo tifoso che ha detto Spinelli Mi si è trattato Io aspetto ancora Spinelli A dove era Fauglia Il Livornelo Per il Centro sportivo Livornelo Perché la gente Secondo me Non sa C'è un si ricordano Spinelli Si ha fatto Perché Se noi siamo In Serie D Cioè è grazie a Spinelli Però C'è quel campo Nella Viale Pisorno Che ho sempre detto Dove ti ricordi Salone Valcusti Di Rene Che è bellissima La struttura lì Lì aspetta solo uno Che dica Mi prendete in affitto Oppure mi comprate Perché dietro C'è una struttura Roberto Non so se l'hai vista Stupenda Stupenda C'è un campo di calcio 11 è bellissimo C'è anche i campi Da calcetto Campi da tennis Però è lì Tutto abbandonato A Livorno Strutture A parte il Piancastelli Forse Si però Se vuoi fare una struttura In grande Non basta neanche quella Perché Se vuoi mettere Parti Non l'hai vista Con la struttura lì È enorme Ma quella dice il Custirene È enorme È enorme Dice il Piancastelli È enorme C'era anche il ristorante E dietro È enorme Io lo so quanto è profonda Quella struttura lì Ma se non sbaglio C'è due campi di calcio 11 e 1 a 8 2 a 5 E due campi da tennis È enorme C'erano due tre campi da tennis È enorme Quella struttura lì È logico che se uno Si fa avanti O va a sentire A comunità di Renna Perché quello penso Ci sia una proprietà dietro Però io lo farei Anche perché Come si diceva Cioè Ti fai un programma Per andare in Serie C Ok Per l'amore di Dio Vinci il campionato Ok Ma il settore giovanile Lo devi creare Anche perché alcune squadre Da regolamento Poi ti servono È bravo Lo devi creare Lo devi curare Cioè Fallo nel frattempo Quest'anno fai la squadra Per vincere il campionato Si spera Oppure vinci il campionato Quest'anno Non si sa mai Ti ripescano Perché hai vinto playoff Come la pianessa l'anno scorso Però Il settore giovanile Intanto inizi a costruirlo Cioè hai Doga Prendi degli allenatori giovani Che ci sono bravi A Livorno O anche fuori E ce n'è tanti anche fuori Che io ne conosco una marea E da lì inizi a costruire Però se non costruisci Anche nel settore giovanile E non lo fai subito Un po' pensare Solo alla prima squadra Perché pensare Solo alla prima squadra E vinci il campionato Di Serie D E va bene Fai il contamento Tifosi E come dice lui Non crei E quei soldi Dell'affitto Che paghi Arconi Ha ragione lui Che è un campo spettacolare Perché perché hanno fatto Un campo proprio nuovo Sì sì Però Ma anche come Io posso dire Cioè è bellissimo Anche dentro Il Cosmopolitan Che c'è campi a 11 Lì dove c'è Gli studi cinematografici Certo C'è campi a 11 Io ci ho giocato E sono E sono bellissimi Però Se te Come dice lui Non crei Anche qualcosa Dietro Alla squadra Alla prima squadra Oltre all'Uniones E la vedo dura Perché questa Si chiama programmazione Io però posso dire una cosa Io sono stato sette anni A Sanremo Non è Livorno Ci mancherebbe Però per sette anni Ho cercato di vincere Il campionato Sì La struttura che c'è qui Staff medico Staff tecnico Dove ci si allena Cioè Non è minimamente Paragonabile Certo Alla Serie D Cioè quindi Secondo me in quello Siamo già molto avanti Certo Ma molto molto avanti Rispetto alle altre squadre Di Serie D Sicuramente Su questo abbiamo un messaggio Poi diamo linea alla regia Perché non è stato preso Il centro sportivo Di proprietà Dell'Armando Picchi Che è stato invece preso Da UAP Alla Beach Ma stiamo scherzando Questo è un tema Che abbiamo affrontato Anche nelle scorse settimane Che Jacopo Già avevi dato Una risposta Adesso linea alla regia Poi ultima parte Di trasmissione La cura e l'affidabilità Della tua auto Ad un'azienda Che si distingue Per professionalità E tecnologia avanzata Carrozzeria Roma Centro fiduciario Dei marchi automobilistici Più prestigiosi Carrozzeria Roma Via Uggione 27 A Livorno Point di riferimento Di restyling Auto e sinistri Farmacia Farneti La tua farmacia Di riferimento A Livorno La farmacia Farneti Ti è sempre più vicina Attraverso la consegna A domicilio Gratuita a Livorno Vieni a scoprire Tutti i nostri servizi Il reparto Dedicato agli alimenti Senza glutine La farmacia Farneti È centro servizi D'eccellenza Di telecardiologia Dove potrai effettuare Elettrocardiogrammi E oltre Cardiaci e pressori Anche a domicilio Ordine acquisti Sono possibili Mediante L'utilizzo Dell'app Farmacia Farneti Disponibile Su Apple Store E Google Play Farmacia Farneti Per stati sempre più vicino Dentisti il sorriso Massima professionalità Impegno E qualità A vostra disposizione 11 ambulatori E uno staff di eccellenza Con 15 medici odontoiatri E 10 tra assistenti E 10 tra assistenti addette La segreteria Dentisti il sorriso Il sorriso amico A fianco del cittadino Stai cercando di vendere Si respira qualche sensazione Un po' più positiva Ma rispetto alle settimane passate Roberto Si ma ripeto Durante la settimana Anche le settimane passate Si respiravano sensazioni positive Quindi ripeto Oggi si abbiamo fatto Un buonissimo allenamento Ieri anche Martedì Lo stesso Andiamo a figline E vediamo Dobbiamo vincere C'è poco da fare Cosa scatta allora Da una settimana D'allenamento fatta bene Palla domenica Queste azioni che Soprattutto le ultime Insomma Lasciano un po' a desiderare Eh sì L'interrogatorio Che siamo fatti Con il mister In queste due settimane E non siamo riusciti A verne a capo A volte appunto C'è questo blocco Sul più bello Ci siamo bloccati Ed è un peccato Esattamente Perché Livorno ha fatto Questa rincorsa A meno uno dalla pianese Sembrava un po' tutto Facesse pensare Che Livorno fosse maturato Per fare anche il sorpasso E portarsi in vetta Una volta lì Ritornati a un passo dalla vetta Invece Si è afflosciato nuovamente Tutto E poi la gente Appunto Se è disillusa Fa anche fatica A spiegarsi Come mai Una volta che il traguardo Era davvero vicino Dopo che è ristrato A meno nove Se è lì Ti rispengi No no Sono state anche Emozioni molto forti Perché dopo Tanta gente Tanta gente Con la pianese La partita che abbiamo vinto A Seravezza Siamo arrivati C'erano i tifosi Che ci aspettavano Sono tutte cose Che per una piazza di serie D E per un giocatore di serie D Dovrebbe Darti un'adrenalina Una forza incredibile Probabilmente A volte Tutta questa responsabilità Può pesare Questo è quello che mi viene Mi viene da pensare Poi abbiamo sempre un messaggio Che lo rivolgo a te Roberto Visto che abbiamo il studio Ci chiedono Ma perché Perché Fancelli Non trovano spazio Ma perché Per una questione Di giovani E di modulo Abbiamo preferito Altri Altri giocatori Altri giovani Soprattutto Camarà Che come quinto Ci dava più garanzie E con Schiaroli Braccetto Quindi con un vecchio Un vecchio dietro Jacopo su Fancelli Visto che Tutte le settimane Puntualmente arriva un messaggio Che ci chiede Come ha lo scarso L'utilizzo di Fancelli Anche perché Fancelli Lo scorso anno L'abbiamo ripetuto più volte È stato uno dei pochi A salvarsi nella stagione Disastrosa quest'anno Però non l'abbiamo visto Né con Fossati Né prima con Pavarini Evidentemente Quindi Ciò è un problema a monte Perché se sono due tecnici Nessuno dei due L'ha utilizzato Ricordiamo che ha avuto Anche un terzo Intervento quest'estate Mari quindi Condizioni fisiche non ottimali Un infortunio Che l'ha tenuto fuori Anche più a lungo del previsto Poi Mari appunto Come diceva Roberto Certe gerarchie Soprattutto nelle quote Che saranno venute Nel frattempo a creare No sicuramente Sarà un discorso appunto Di giovani Di scelte Devo dire la verità Che io Mi piace Fancelli Come tipo di giocatore Però quando è stato messo In campo Con Favarin Ha fatto un po' di fatica A trovare forse Il ritmo partita Era un po' di ritardo Sulle chiusure in difesa E quindi forse anche Magari Proprio per questo infortunio Per l'operazione Che ha subito Insomma Ha sentito un po' Ecco Rientro in campo E Insomma La speranza Per il Livone È quello di riaverlo A pieno regime Come lo scorso anno Perché è stato uno Dei migliori E uno che sicuramente Può portare parecchio Ancora un messaggio Prima la cosa da fare Quest'estate È prendere un bomber Da 20 gol Paolo Sul mercato Ti muoveresti In questo senso qui Subito un attaccante Forte Che quantomeno Sulla carta Spostare gli equilibri Ma è si detto All'inizio della trasmissione Devi trovare La spina dorsale Della squadra Ci vogliono uomini In campo Sono uomini Che poi fanno la differenza Non sono i tabellini Perché Se mi ricordo Quando giocava Ibraimovic Nel Milano Cerino fece 15 gol Quindi se vai a guardare Quanti gol fa un centrocampista E vedi 15 gol Ho capito Bisogna vedere L'impianto di quella squadra Poi dopo Non l'ha più fatto In vita sua Arriva anche il nazionale Allora Non è Che si va a vedere Come si chiama Quell'aggeggio Su internet Telemarket Vai a vedere La gente fa così Va lì Guarda i gol E' buono Ma dove Non è detto Che si ha fatto Quattro gol E' scarso Bisogna vedere Nell'impianto Del gioco Che l'allenatore Vuole avere Quali sono i giocatori Che per lui Fanno la differenza Però io insisterei Su giocatori di serie D E' inutile Che vai a cercare I giocatori Di serie C Non ci vengono giù E se ci vengono Ci vengono All'ultima sessione Di mercato Quando i giochi Sono fatti Te la squadra La devi creare subito Poi il tassello Lo inserisci Allora sì Che se poi vinci Vogliano venire loro E si calano le braghe Non all'inizio All'inizio Giustamente Un giocatore Che ha mercato Un ciste Ne sta in C Quindi costruisci Ti la squadra Di serie D E poi In corso d'opera Come ha fatto L'Arezzo Con Gucci Inserisci Quel centro avanti O quel giocatore Che magari In quel reparto Non hai trovato Una soluzione Degna Ma con Gucci Paolo Ne hai preso uno Esatto Quindi Voglio dire Oggi Quando termina il campionato Devi già averle idee chiare Di chi tenere Di chi è l'allenatore Chi tenere E andare subito Sul mercato Perché La squadra Va costruita così Non si può Fare il gioco Delle tre carte Come abbiamo fatto ora Ma se andate a contare I giocatori Io credo che Ne abbiamo presi più di 80 Negli ultimi due anni Nel scorso anno Come tutti Esatto Tra dicembre e gennaio Ci fu la rivoluzione Esatto Quindi calcolo La cinquantina L'anno scorso 30 quest'anno Siamo 80 30 Ora siamo a 30 Erano di più Comunque Lui ci fa le gente Con grinta Corsa E Secondo me C'è C'è Stato anche Soprattutto Nell'ultima settimana La paura dell'errore Di tanti calciatori La paura di sbagliare E da parte di qualcuno Secondo me È anche la mancanza di grinta Che la grinta Non è che ti cresce E ti viene Se non ce l'hai Non ce l'hai E qualcuno Secondo me Non ce l'ha Non c'è la pallina Sullo stomaco Che alleviene la notte Prima di giocare Che prendi la mattina Vi metterete a ridere Vai cinque volte in bagno Perché sta male E va in campo Poi la pallina Te esplode Qualcuno non ce l'ha Secondo me Qualcuno non ce l'ha Poi ho ancora un paio Di messaggi Prima di andare In chiusura E leggere Anche il prossimo turno A questa squadra Manca un Marzielli Fratto Marzielli Sei davanti De Grosseto Riccardo Stuzzico te Perché Grosseto Non ti è mai piaciuto Però Marzielli È un signore attaccante E vinse il corso Quanti giocatori ha cambiato Quanti giocatori ha preso È vero Perché non si parla Di 30 di Livorno Ma Grosseto Grosseto comunque La rosa Già più corta Rispetto a quella di Livorno Ok ma quanti ne ha cambiato E quanti ne ha presi Io non ti ho detto Che la rosa È abbondante È corta Non ha pressi in una mano Neanche loro Perché se guardi A parte la Pianese Tante squadre Hanno preso Hanno rivoluzionato Rivoluzionato È bravo Esatto Anche Grosseto Comunque sta fallendo Fino a questo momento Fino ad oggi Ha un punto meno di che Quindi non è che ha fatto E scusa Di più Non è che ha fatto Questo grande campionato Il grande campionato E arriva ora In queste quattro ultime giornate Perché il Falonica Capo Orrano Se non gli fa strada La Pianese Inizia a perdere i punti Perché se la Tannone È voluta essere ripescata Cioè È stata la Uzzata Anche quest'anno Però Cioè Spiegatemi voi Allora lotta a due Livorno-Grosseto Il Livorno È il padrone Del proprio destino Ma finora È stato però Ma è stato sempre Purtroppo non più Perché con le poi Mazzini avanti Ha quattro giornate da termine Ci vuole appunto Ci consegna ancora Delle speranze Ma te ha perso È pareggiato La ragione È pareggiato Delle partite Che secondo me È veramente Indiscibile Indiscibile Ma ancora Sono tutti giocatori D'alta classifica Sì ma d'eccellenza Un po' critico Questo messaggio Ancora Puoi aggiungere Per te Riccardo Ma se non veniva Aldo Spinelli Te in serie Dici Stavi da 55 anni No Sera in serie C Quando è arrivato Spinelli Lo comprò da Achilli E il primo anno Da Deodati Achilli E il primo anno Ci salvò Pino Manfreda Perché se non c'era Pino Manfreda Si retrocedeva L'altro attaccante Era Carruzzo C'ho la memoria Si retrocedeva noi Quell'anno lì Poi l'anno dopo Bravo L'anno dopo Fece la squadra Si perse i playoff Dopo due anni Siamo andati su Però noi Con Aldo Spinelli Ci siamo andati due volte Cioè Tre anni in serie C Ci siamo stati Quindi Io Vediamo il prossimo anno Cosa fa Eschua Allora poi Lo posso criticare Come lo stiamo criticando ora Magari lo critichiamo In una maniera Molto più pesante Perché Ha fatto delle promesse E non l'ha mantenute Però Spinelli Il primo anno Ci siamo salvati a stento Il secondo Si è perso I playoff Il terzo Si è vinto il campionato E poi non scordiamo Certe cose Che plomo di Dio Vabbè non andiamo a Ma a Ningoslavia Bisognava andare A ricerca con l'aeroplano Il prossimo turno Se ce l'abbiamo Così lo andiamo a commentare Con i nostri ospiti Crediamo di volare Ovviamente Si è impegnato A Figline Avversario che ricordano A Jacopo Playoff Sì sì Meglio pensare D'eccellenza Montevarchi Sandonato Fighine Livorno Abbiamo appena detto Follonica Gavorano Tresina Grosseto Real Forte Querceta Orvietana Pianese Cenaia San Giovannese Seravezza Poggibonzi Tau Ponsacco Sansepolcro Che vi borgo Roberto Un turno Guardando le zone di vertice A cui Livorno è ancora Attaccato Non così scontato Perché penso La pianese capolista Va a Dorvieto Dorvietano ha bisogno Di punti salvezza Grosseto In casa Altra scuola Pericolante Che lettura Dà di questo turno Soprattutto delle Dirette concorrenti Degli Amaranta Anche se abbiamo detto Il Livorno Ormai ha speranze relative Che penso a noi Pensando Anche perché Li vogliono Un'alternativa Le vince tutte E poi Può vedere anche la classifica Il resto vediamo Mi mettiamo la videocassifica Come Riccardo Vada a vedere Andrei a vedere Grosseto La forte querceta Perché Siccome Se ne fosse Il grosseto Mi mettiamo a videoclassico Ponsacco Riccardo Desiderio esaudito Subito Iniziatore Vada a vedere Grosseto Grosseto Che ha forte querceta Come? Poi aver vinto Con la Pianese Ci hanno il pianone Ma tanta gente Allo stadia Porta un po' Titta E dipende Come entri In campo Perché ci può essere Il pianone Ci può essere Anche la gente Che ti soffia Nell'orecchio Dipende Come entri In campo Sicuro il querceta Deve fare punti Per la forbice Noi si diceva Al Ponsacco A Grosseto Al Ponsacco Al Ponsacco Ha levato punti a tutti Esatto In trasferta Ha vinto Con la Pianese La Pianese Ha pareggiato Al Livorno E deve giocare Ancora con Il Gavorano Sì E con Non è una passeggiata La partita Le partite più semplici Sulla carta Sì Il calendario La Pianese Ad esempio C'è più complicata Perché L'ultime due Poi Sera Vezza Tau Che Morari Insomma Un posto Neppri Off A questo punto Se lo vogliono E mi sembra Che partiti Semplici Non ce ne state No Perché Come ha detto Lo Grosseto Con un sacco Non è stata Semplice La partita Dell'altra volta Che pareggiò Alla fine Grosseto Fuori casa Poi il Cenaia Ha pareggiato Anche il Grosseto Non è stata Una partita semplice Il Vorno Cenaia Non è stata Una partita semplice Qui Ti ripeto Secondo me Quello che vince Il campionato Lo vince Di uno o due punti Sì L'ultima giornata L'ultima giornata L'ultima giornata L'ultima giornata Roberto Chiudiamo Concentrandoci appunto Su Livorno Sul prossimo impegno Domenica La scuola che sta facendo Un buon campionato Forse anche a di sopra Dell'aspettativa Erano partiti per salvarsi E lo stanno facendo Molto bene Che tipo di gara ti aspetti E che avversario Ti aspetti Pensi che possano avere Un po' Tra virgolette La pancia piena Dato che Sono abbastanza distanti Dalla zona play out E distanti da quella play off Oppure un avversario Che comunque Arriva a Livorno E quindi Giocherà a Guerrito Allora Innanzitutto Arriva a Livorno Chiunque gioca contro Livorno E ha Guerrito Poi io sono andato A vederli col Cenaia Perché noi avevamo giocato Il sabato Col San Donato E poi dovevamo giocare Contro appunto Il Cenaia È un ambiente abbastanza Infuocato E sicuramente Sarà una guerra Loro avevano vinto Col Cenaia 3 a 0 Poi sono andati A Gavorano E hanno pareggiato Erano praticamente Già salvi Dopo Cenaia Quindi sicuramente Sarà una partita Difficilissima Venderanno caro alla pelle E sarà di nuovo Un'altra battaglia Jacopo Sulla formazione Che era a te Perché Roberto Indicazioni Non ce le darà Su quello che Mari stanno provando Ti aspetti Dato il nuovo cambio In panchina Stravolgimenti Oppure che Mari si vada avanti Con il solito sistema Di gioco E Mari gli uomini Una base consolidata Andare avanti Con sicuro Secondo me Poi non lo so Secondo me Se captiamo qualcosa Dalle espressioni Fossi Pascali Ecco Non starei a stravolgere Tanto Cioè Andrei su Sulle certezze E su Quelli che danno Ovviamente più Anche sicurezze Durante la settimana E poi sulla base Che è stata Sviluppata Fino a questo momento Anche perché Dici l'evoluzione A qualche varia da termine Anche difficile fare Infatti per quello Non per Pascali Perché ci mancherebbe Anzi Mi faccio I miei più sinceri auguri Per questa occasione Anche perché Pascali Comunque Se l'ha Meritata Questa promozione Perché Con la Lignore Ha fatto una grande stagione Esatto Però appunto La rivoluzione Sia tattica Che in panchina In questo momento Cioè Ha la sua rilevanza Che per me Non è Non è così grande Ecco Vedremo cosa Cosa deciderà Domenica Sicuramente farà L'opposto Di quello che ha detto Sicuramente Che giuriscono nulla Noi siamo davvero In chiusura A tempo di ringraziare Gli ospiti Che ci hanno fatto Compagnare Questa sera A partire proprio Da Jacopo Morelli Di Livorno24 Ci vediamo a filine Ci vediamo a filine Ciao a tutti Buona serata Ringrazio poi Per aver accettato Il nostro avvito Roberto Corriale Vice allenatore Del Livorno Grazie Grazie Buona serata Ringrazio poi Paolo Maiori Ricordiamo anche Seconda voce A fianco di Massimo Brachini Poi le mandiamo Un abbraccio Un saluto A tutti Ringrazio a fine Riccardo Berni Io però non lo ringrazio Davide Riccardo è così È un po' una testa matta A volte no Si accende Ma ormai Li si vuole bene Anche per questo Si si dai Ti vuole bene Al doge Fantasista Grazie Riccardo Per essere stato con noi Ringraziamento finale Ovviamente va a voi Che ci avete seguito Da casa Appuntamento Con Avanti Livorno Per giovedì prossimo Attorno alle 20 e 30 Quando commenteremo La partita Degli Ammaranto Sul campo del Figline Volgendo poi Contemporaneamente Lo sguardo Al successivo impegno interno Contro la San Giovanese Grazie ancora E buon proseguimento Di sera Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti